1975, ad alzare le braccia è il secondo. La ventunesima e ultima tappa della 58esima edizione del Giro ha una conclusione anomala per la Corsa Rosa. La frazione, disegnata da Torriani, presenta una riva in salita, e non una salita qualunque, i 2757 metri dello Stelvio. Non ha preso il via Eddie Merckx, vincitore delle ultime tre edizioni. I favoriti alla partenza sono Felice Gimondi e Gian Battista Baron Kelly, ma la Corsa vedrà prevalere due outsider. Dalla quarta frazione, con arrivo a Campobasso, prende il comando delle operazioni lo spagnolo Francisco Galdos, che non ha mai vinto una tappa al Giro d'Italia, ma tre anni prima aveva concluso al terzo posto. La sua leadership dura fino a una settimana dalla fine. Giovanni Battaglín e Fausto Bertoglio vincono infatti le due prove contro il tempo a Forte dei Marmi e la cronoscalata Il Ciocco, rispettivamente di 38 e 13 chilometri. Battaglín crolla sulle Dolomiti, mentre Bertoglio mantiene 41 secondi sullo scalatore spagnolo. Nella tappa finale, Galdos si gioca il tutto per tutto. A 11 chilometri dalla vetta, parte in progressione staccando tutti, tranne la maglia rosa. Il pubblico è tutto dalla parte del ciclista bresciano, tanto che i tifosi scrivono Fausto come Coppi sulla neve e sugli striscioni, un paragone che dà la carica al ragazzo 26enne. In questa tappa non sono previsti a buoni. Galdos deve per forza staccare il rivale, ma l'italiano pedala tranquillo tra due muri di neve, sempre seduto. Al contrario, lo spagnolo si alza spesso sui pedali, con una pedalata nervosa che ricorda alla lontana Alberto Contador. Nel finale, lo spagnolo allunga ancora, mentre Bertoglio si accontenta di arrivare secondo. L'immagine ritrae una scena tipica, il primo in classifica che taglia il traguardo, mentre il secondo esulta a braccia alzate. Questo sarà il primo e unico successo di tappa per Galdos in una grande corsa tappe, e nemmeno Bertoglio ripeterà questo exploit. A completare il podio, a 6 minuti e 18 secondi dal leader, ci sarà Felice Gimondi, mentre Roger De Vlemic, autentico mattatore della corsa con 7 tappe vinte, chiuderà quarto a 7 minuti e 39 secondi.